Torna per il secondo anno educativo il bando Nidi Gratis 2024-2025, che quest'anno può contare su uno stanziamento di 40 milioni di euro. Le domande possono essere presentate fino alle 18 del prossimo 27 giugno. Le famiglie avranno a disposizione l'applicativo online regionale appositamente dedicato a questa procedura. L'intervento è cofinanziato attraverso il programma regionale Fondo Sociale Europeo, di cui costituisce misura di rilevanza strategica. Potranno accedere ai Nidi Gratis le famiglie con ISEE inferiore ai 35 mila euro. I contributi saranno assicurati per la frequenza dei Nidi d'infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare. Il contributo massimo erogato dalla Regione per ogni bambino è di 527,27 euro per ciascuna mensilità. La Regione ha già reso disponibile l'elenco delle amministrazioni comunali che hanno aderito al bando regionale e dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati presso i quali sarà possibile beneficiare dei contributi. Sono in tutto 230 su 273 comuni toscani per un totale di 805 servizi. Nello scorso anno educativo sono stati quasi 13.500 le bambine e i bambini che hanno usufruito della misura. Nello scorso anno